Quindi ho fatto una selezione di cui mi assumo tutta la responsabilità perché l'ho fatta in base alcune volte effettivamente alla rilevanza del progetto sul piano scientifico altre volte al fatto che mi sembravano informazioni interessanti da comunicare proprio per condividere l'aspetto scientifico del progetto e farlo una cosa più vicina. Questo qua è l'obiettivo della mia presentazione. Sapete che l'anno scorso vi ho presentato la diapositiva della scala della vita e c'era stato l'urlo di gioia della Claudia per la soglia dei 50 anni. Quest'anno vi presento un'altra cosa che è la piramide dell'età. Rispetto ai grafici che vi hanno proiettato prima non è difficile da capire. Nella retta orizzontale c'è la percentuale da 0 a 14 per i maschi, da 0 a 14% per le femmine. Nella retta verticale, cioè inordinata, ci sono le classi di età. Allora, se uno vuol sapere quanti sono i maschi tra gli 8 e gli 11 anni oggi in Italia, allora va di qua e legge che i maschi dagli 8 agli 11 anni rappresentano il 10% di questa popolazione di quasi 5.000 persone con la malattia fibrosicistica iscritte nel registro italiano. Non sappiamo se sono tutti quelli che hanno la fibrosicistica in Italia. Questo è il numero di quelli scritti nel registro. Perché vi ho fatto vedere questa piramide? Per due cose. Per farvi notare che ci sono le classi di età anche oltre i 40 anni e anche oltre i 50 anni. Quelli lassù di 96 anni penso che siano onestamente un artefatto. Però faremo un'interrogazione al registro per saperlo. E poi per un'altra cosa, perché se noi tracciamo una linea ideale, questa qui, cioè dei soggetti che hanno più di 18 anni di età, si vede che quelli che hanno più di 18 anni sono quasi il 60% della popolazione delle persone che hanno la fibrosicistica oggi in Italia. E volevo presentarvi questo dato per dirvi che questo è uno dei motivi per cui diciamo che la fibrosicistica sta cambiando. Sta cambiando. Certo, non è cambiata ancora come vorremmo. Perché se voi andate a vedere questa stessa piramide nella popolazione generale, è una piramide che ha la pancia più grande qua, a livello dei 40-60 nella popolazione italiana. Ed è rappresentativa della realtà del nostro paese, in cui ci avviamo ad avere un grande numero di pensionati. E quindi è tutta spostata verso l'alto. Però, potremmo arrivarci. La fibrosicistica sta cambiando ed è entrata, questo si dice, nell'era dei modulatori. Si parla proprio di era, sapete? Come a dire un periodo completamente diverso, quando si è parlato di fibrosicistica che entrava nell'era dello screening neonatale. Per dire qualcosa di profondamente innovativo. Vi ho detto in fretta, quindi, questo come introduzione. Vi ho detto in fretta dei progetti di ricerca. Guardate che molte di queste cose le trovate già nella brochure. Anche le tabelle che vi dicono, per esempio, l'entità degli investimenti per area di ricerca, se è un'informazione che vi interessa. Vedete che il difetto di base e la ricerca di nuove terapie è l'area che attrae un maggior numero di progetti. Vedete che molti progetti sono sull'infezione polmonare, sull'infiammazione. La ricerca clinica, che è la ricerca delle cose nelle persone con la malattia, cioè applicazione di farmaci, statistiche sulle terapie che fanno, applicazione di nuove terapie, ha un numero modesto di progetti. E per questo ci sono varie ragioni che non... C'è tempo adesso qua di discutere, ma se volete siamo disponibili a parlarne. Area clinica, la prima area. vi ho fatto un elenco di quali sono state, secondo me, i temi più rilevanti toccati da progetti di ricerca FFC dal 2002 al 2018. Sono di varia natura. Vedete che cito lo screening a Natale, adesso vado a parlarne di nuovo dentro. Lo screening del portatore. Cosa vuol dire mappo mutazione CFTR in Italia? Vuol dire che abbiamo contribuito con uno dei nostri progetti a sapere quali erano le mutazioni del genere CFTR caratteristiche di certe regioni meno presenti in altre. Questo è molto importante perché per diagnosticare i portatori ci vuole un test genetico che conosca tutte le mutazioni italiane e che sia applicabile su scala nazionale. ci siamo occupati di si sono questi progetti occupati di vedere nuovi protocolli antibiotici si sono occupati del tema del diabete del trapianto e adesso ve ne illustro un paio. Vi ho detto che quando si è attuata quella che Mastella ha chiamato stamattina questa rivoluzione silenziosa dello screening neonatale il Veneto è stata una regione all'avanguardia perché lo ha applicato per primo in Italia ed era tra le primissime regioni al mondo io ricordo il dottor Pedersini che era in collaborazione con un certo dottor Rili inglese ma per dire l'idea di poter diagnosticare alla nascita era qualcosa di effettivamente rivoluzionario gli americani a questa cosa dello screening neonatale ci sono arrivati vent'anni dopo e adesso scoprono i benefici dello screening neonatale che in Italia fu reso obbligatorio per legge in base a questa legge che è del 92 e che precede quella del 93 che è la 548 che quest'anno è stata celebrata questo progetto del 2010 ha voluto in pratica fare una panoramica di quali erano i protocolli che le varie regioni usavano per lo screening neonatale perché c'è questo problema che non c'è un protocollo unico che dica allora il bambino fa la puntura sul tallone e fa una cosa che si chiama tripsina poi fa l'analisi genetica poi solo quelli che hanno l'analisi genetica positiva fanno il test del sudore ci sono insomma vari step che non sono in tutte le regioni tutti uguali ad ogni modo questa sorveglianza ha permesso a questo progetto di vedere che nel 2009 erano sottoposti a screening neonatale il 78% dei neonati italiani e che la diagnosi la mediana della diagnosi era di 56 giorni e guardate che è un buon risultato perché è vero che lo screening neonatale come mi ha scritto una mamma che non dimenticherò mai ruba ci avete rubato i nostri sogni ha scritto perché è il passaggio dal sogno del bambino sano e perfetto al bambino che ha un problema però non c'è dubbio che la malattia da quando si sono potuti curare prima è diventata una malattia diversa ma diversa anche nell'aspetto dei bambini che non sono più venuti sotto peso broncorroici come venivano già prima quando per fortuna venivano a 5-6 anni ok nel 2014 la copertura anche grazie a questa diffusione diciamo promozione fatta dalla fondazione era salita all'87% e oggi poi lo potrà dire meglio il dottor Braggione c'è una nuova fase che è quella della possibilità di aumentare si chiama scrinio natale allargato no Cesare con l'indagine non alle tre malattie classiche che sono ipotiroidismo fibrosicistica e fenilchetonuria ma ad una quarantina di malattie metaboliche verso e verso questa procedura per legge le regioni dovranno orientarsi si chiama incidenza di una malattia il numero dei nati rispetto nati malati rispetto al numero dei nati in generale si chiama incidenza lo scrinio natale ci dice quanti sono i nati in una data regione diagnosticati attraverso screening allora questa ve l'ho fatta vedere perché certe volte mi succede di sentire delle cose che mi fanno venire un po' di strizza come che la fibrosicistica è una malattia molto diffusa in Italia o che la fibrosicistica è una malattia molto diffusa nel Veneto e cose di questo genere del resto quando studiavo io si diceva che la fibrosicistica era una malattia caratteristica delle popolazioni di pelle bianca ed è vero che io ho studiato parecchio tempo fa però insomma era comunque una fake news nel senso nel senso che state ben attenti a qual è la vedete l'incidenza della malattia è massima qui in Europa li leggete i numeri ok ed è minima in Asia ok però per esempio c'è anche nella popolazione africana io ricordo le prime volte che ricoveravamo al centro bambini di colore ed era uno stupore dire ma come c'è la fibrosicistica vedete Nord America vedete Sud America ok poi un'altra cosa l'incidenza cioè sapere che uno nasce malato con la malattia guardate che dipende anche dal fatto di saperla diagnosticare per cui non sappiamo se i i signori cinesi che sono così abili adesso in vari campi magari fanno qualche progresso anche nella diagnosi della fibrosicistica oppure se sono effettivamente capaci di dimostrare che da loro la fibrosicistica c'è di meno detto questo passo a dire questo e scusate se uso un modo di rappresentazione un po' naif perché questo era una cosa che avevamo fatto per le scuole per dirvi che diversa incidenza della malattia vuol dire diversi diversa frequenza del portatore perché per nascere malati ci vogliono due portatori allora siccome l'incidenza della malattia è maggiore nelle nostre popolazioni ecco qua che quelli che si chiamano di origine caucasica i portatori sono il 4% circa mentre qua i cinesi vedete molto pochi e qua questi che si chiamano ebrei aschenazi che comunque sono le popolazioni del centro Europa siamo intorno sempre al 4% della frequenza di portatore 4% vuol dire 1 sul 25 ok che è il numero che usiamo in genere vi dico questo perché l'altro progetto di importanza socio-sanitaria che volevo illustrarvi come contributo della fondazione al cammino della malattia sono un paio di progetti che sono stati finanziati per documentare sono progetti pilota di applicazione dello screen del portatore nella popolazione generale e in questo caso popolazione generale veneta voi sapete che chi ha la malattia in famiglia i familiari sono consigliati di fare il test e in questo caso il test per chi ha familiarità è gratuito ma chi non ha familiarità il test in tutte le regioni d'Italia fuorché nel Veneto il soggetto se lo deve pagare e deve ritenersi fortunato se sente che c'è insomma se qualcuno gli dice guarda che c'è questo test nel Veneto attraverso questi progetti sono stati si sono avuti risultati importanti perché per esempio abbiamo saputo intanto sono stati fatti ripeto nella popolazione generale un sacco di test dal 93 al 2017 oltre 200.000 test per il portatore è un numero discreto anche rispetto a quello che viene pubblicato in altri paesi Veneto-Est vuol dire Vicenza Padova-Treviso Belluno e Venezia in questo caso che era un'area ben circoscritta in cui era stata fatta attraverso una rete di laboratori e di medici di base una promozione particolare dell'informazione sul test questi 200.000 test fatti in questo periodo hanno portato a identificare oltre 7.000 portatori parlo del singolo portatore non delle coppie e vedete che questi sono gli anni dal 94 al 2017 l'identificazione dei portatori che va in parallelo con il numero dei test eseguiti è massima in questi anni qui 2006 2013 e poi tende un po' ad appiattirsi l'appiattimento corrisponde ad una fase di non più promozione sostegno al test per varie ragioni questo andamento è importante per questo che vi dico adesso voi dovete credere in base a me e io credo alle leggi della statistica che queste due curve questa qui rappresenta l'andamento dell'incidenza della malattia vedete la curva continua cioè rappresenta il numero dei nati malati che qui ha una certa incidenza qui scende e qui risale mentre questo rappresenta l'andamento del numero dei test eseguiti ok allora sembra come che finché i test sono tanti l'incidenza della malattia cala e poi riprende a crescere infatti se vedete se si vedono questi numeri qua che cosa che non so nel 96 qui l'incidenza è su 10.000 nati è di 3,5 bambini nati con fibrosicistica su 10.000 ma se andiamo intorno al 2004 2005 o addirittura al 2008 tu perché non non si vede si è stufato se andate al 2008 è meno di un è meno è meno di un bambino su 10.000 allora la cosa che questi progetti non hanno di queste diapositive tra l'altro ringrazio il dottor Castellani che era il principal investigator il ricercatore principale di questi progetti la cosa che questi progetti non ci hanno detto è perché in che modo l'incidenza è diminuita sono state fatte delle diagnosi prenatali sono state fatte delle adozioni sono state fatte delle procedure di procreazione medicalmente assistita molto difficile sono cose molto difficili da indagare però ci hanno detto di questa realtà che è una realtà importante e chiudo perché è un'esperienza unica quasi unica perché ci sono altre nazioni che hanno provato tuttora a fare progetti pilota di screening del portatore ma sono molto poche e il Veneto si inserisce fra le queste poche quello che volevo dire è che lo screening del portatore questa fondazione intende promuoverlo nella sua valenza informativa avendo ben chiaro questo che lo screening del portatore ha come scopo di identificare i portatori e di permettere alle coppie di portatori di scegliere che cosa vogliono fare questo è il principio della scelta consapevole e autonoma che è il fine dello screening non la diminuzione dell'incidenza della malattia questo non è dichiarato se poi questo viene verificato questo è perché le persone hanno scelto così ma l'importante è il principio di informazione ok chiuso passiamo sempre in area clinica a un progetto che riguarda il trapianto pulmonare verso il quale io ho abbastanza attese perché perché non ci sono diciamo esperienze pubblicate su questa procedura e sono solo sapete segnalazioni qua e là e abbiamo finanziato questo progetto proprio perché sentivamo il bisogno che se ne facesse una esperienza controllata quando dico esperienza controllata voglio dire un gruppo che lo fa e un gruppo che non lo fa e poi si va a vedere che cosa succede questa è una macchina speciale che è la macchina per la fotoferesi extracorporea è una macchina che praticamente separa il sangue nella sua parte cellulare da quella liquida del paziente che è lì gli lo cavano via tutto e va dentro e poi glielo reinfondono però nella macchina le cellule vengono sottoposte a un trattamento particolare che è un trattamento con un con un farmaco che si chiama fotosensibilizzante cioè un farmaco che quando poi passano sotto una determinata lunghezza d'onda fa sì che queste cellule come dire siano alterate va bene perdano le loro caratteristiche soprattutto i linfociti di maturare il rigetto di modo che questi linfociti trattati con la luce ultravioletta e col farmaco quando vengono reinfusi dovrebbero essere un po' più stupidi un po' meno immunocompetenti un po' più tolleranti e quindi dovremmo avere una minor percentuale di rigetti acuti perché stiamo parlando di rigetto acuto di trapianto in questi soggetti è un progetto che è ancora in corso e che si svolge qui al centro trapianti di Milano e che sapremo alla fine no alla fine di quest'anno dovremmo sapere i risultati sperando che abbiano trovato una casistica sufficiente vi piace questo progetto? Sì vi ricordate l'anno scorso ho detto che è un'area molto complicata e non solo noi stiamo cercando stanno cercando tutti infiammazione poi infibrosicistica è questa cosa che una volta che si è accesa invece di spegnersi come succede quando picchiate col ginocchio dentro un tavolo diventa il ginocchio rosso ma poi diventa un po' più chiaro poi si sgonfia eccetera infiammazione infibrosicistica comincia presto e non si spegne più tant'è vero che l'ipotesi oggi predominante è che sia collegata al difetto di CFTR ed è su questo che si sta molto lavorando comunque noi abbiamo fatto del nostro meglio per studiare questi meccanismi che sono molto complicati perché l'infiammazione è come se aveste un gomitolo è tirato un filo fuori una roba del genere per cui ancora oggi usiamo il cortisone perché tanto lui in generale deprime tutto invece bisognerebbe trovare il farmaco che va specificamente specificatamente su un certo target ma ci arriveremo ci sono dei trial anche della fondazione americana con dei nuovi antinfiammatori in corso però trial clinici però questo per dirvi che è un argomento complicato io qua vi segnalo che per esempio la trimetirangericina è un composto che è stato disegnato dall'EMA come farmaco orfano che l'anachinra è qualcosa che è già in commercio e che abbiamo effettivamente valutato se valesse la pena di fare un trial clinico c'è anche quest'altro che è già in commercio per un'altra malattia poi c'è questo composto molto nuovo che deriva è un grasso omega 3 che si trova nei pesci e che è stato molto ben valutato quando sono stato a Denver è un prodotto nuovo insomma bisogna lavorarci ancora e quindi se poi avete domande ne riparliamo passo invece all'area dell'infezione polmonare perché la domanda è ma quando è che ci sono degli antibiotici nuovi una domanda terribile per trovare un nuovo antibiotico bisogna capire cosa fa il batterio bisogna capire quali sono i suoi meccanismi di difesa quali sono i meccanismi che lo rendono resistente agli antibiotici tradizionali quindi vedete qua quanto i progetti abbiamo dedicato allo studio dei meccanismi di difesa che uno di questi si chiama biofilm un altro si chiama quorum sensing poi abbiamo studiato come si trasmettono i microbi tra l'altro nel 2007 il dottor Bragion qui presente fu l'autore di un progetto di ricerca era 2007 vero Cesare che si intitolava qual è la distanza sufficiente per prevenire la trasmissione di batteri tema no il progetto dimostrò che un metro non era sufficiente e dopo se volete il dottor Bragion vi racconta come ha fatto perché era molto interessante il metodo scientifico attraverso cui ha dimostrato questa cosa va bene e la terapia con fagi di cui ho parlato prima con alcuni di voi eccetera e trovare soprattutto nuovi antibatterici allora qua questa figura vorrebbe rappresentare il batterio Pseudomonas che fa si aggrega nella sua colonia e uno dei fattori che rendono Pseudomonas speciale è che lui ha una cosa emette delle proteine che fanno parte di un sistema chiamato quorum sensing cioè ha delle specie di sensori che gli permettono di sentire se ci sono altri pseudomonas nelle vicinanze e se ci sono di andare a fare comunella e poi di nuovo a chiudersi nel biofilm il quorum sensing cioè il sentire gli altri è il linguaggio attraverso cui i batteri si parlano e io che sono un amante del linguaggio vi volevo far vedere questa cosa per dire che lo studio dei meccanismi è importante lo studio dei meccanismi è importante perché dovremmo trovare qualcosa contro il quorum sensing tra l'altro lo sapete perché pseudomonas si chiama pseudomonas non importa pseudomonas è stata una scoperta anche per me si chiama pseudomonas cioè falso singolo monos non vuol dire quella cosa lì ma monos in greco vuol dire solo no monos solo e pseudo è come per dire falso quindi pseudomonas è un falso singolo tant'è vero che non sta mai da singolo e appena può va a fare colonia avete capito? va bene allora questa qui invece è una cosa buona perché siamo abbastanza a buon punto questo è una linea dei nuovi antibatterici che la fondazione cerca è la linea dei peptidi i peptidi sono piccole frammenti di proteine che abbiamo naturalmente nel nostro organismo con funzione di difesa antibatterica oppure si possono fabbricare in sostanza in questo caso i ricercatori qui vi ho proiettato la pagina del giornale che ne ha dato anche abbastanza risalto e questo è una molecola che è stata brevettata che è stata sperimentata fino alla fase del modello animale e si sta studiando adesso come somministrarla perché i peptidi hanno un problema essendo proteine non si possono prendere per bocca devi farli per inalazione sapete qual è una sì un peptide un polipeptide è la colimicina la colistina che fate per aerosol quella lì fa parte di una di particolari peptidi che sono i peptidi ciclici ma nessuno fa la colimicina per bocca perché non verrebbe assorbita e va bene e quindi si può fare o solo in vena oppure si può fare solo per aerosol infatti stanno studiando i ricercatori la modalità per assumerlo attraverso spray in modo che sia più veloce e si chiama esculentina perché la rana si chiama rana esculenta che vuol dire rana mangiabile ecco quindi non lo so se questo incrementerà il vostro consumo di rane questo è un altro antibatterico quanto tempo ho? 5 minuti questo è un nuovo antibatterico il gallio è un metallo sì è un metallo a tossico che si trova in natura assieme allo zinco e che potrebbe avere un impiego come antibatterico coadiuvante agli antibiotici tradizionali c'è un trial con il gallio sostenuto dalla fondazione americana un trial clinico che mi sembra che sia un trial di fase 2 vedete la roba la roba bianchiccia sarebbe il famoso biofilm e dentro ci sono pseudomonas e queste sono le capsule di gallio che si possono trovare in vendita anche su ebay senza che questo vi incoraggi ad andarle a prendere e questo invece qui vi ricordo che i progetti della fondazione si sono occupati della ricerca di nuovi protocolli antibiotici nella linea che appena trovato un germe è meglio saltargli addosso è andata diffondendosi la pratica della protocolli per eradicare pseudomonas alla prima comparsa adesso la cosa si sta estendendo per lo stafilococco multiresistente e questo lavoro ha dimostrato che effettivamente introducendo per esempio la pratica di mettere un antibiotico anche nel naso perché il naso è spesso ricettacolo di stafilococchi effettivamente lo stafilococco multiresistente in una certa percentuale di casi se gli salti addosso molto presto scompare e non si impianta qua vi faccio vedere che questi sono cocchi che sono rotondeggianti e aggrappoli e quindi hanno un modo di aggregarsi molto diverso da quello di pseudomonas nuovi modelli per lo studio della malattia qui non siamo più nell'area di prima dell'infezione siamo nell'area 2 nuovi modelli prima avete sentito Nicoletta che parlava dei modelli animali e della loro indispensabilità e poi di questi nuovi e promettenti modelli che derivano dal paziente stesso che sono gli organoidi intestinali o le cellule dell'epitelio nasale allora qui invece questi sono esperti di ingegneria dei tessuti e hanno pensato che potevano agire in questo modo fare del connettivo sintetico e poi metterci dentro le cellule epiteliali bronchiali del malato farle crescere lì e poi coniugare il tutto con una serie di micro canali che portano dei fluidi tanto si chiama micro fluidi qua non c'è ma si chiama micro fluidi chip insomma sta cosa miniaturizzare il tutto e renderlo sensibile a determinate variazioni di volume di pH eccetera portate dall'esterno anche a farmaci portati dall'esterno e questo progetto si conclude quest'anno e stiamo a vedere che risultati darà perché anche questo avrebbe dei vantaggi finiamo con l'area più importante che è l'area del difetto di base vedete quanto è stata studiata la CFTR difettosa perché solo studiandola si può vedere come trattarla ve l'ha detto la dottoressa Pedemonte io vi cito aspetta sono dimenticata una cosa che a questo punto delle cose come fondazione si è pensato che si doveva intraprendere tre grandi linee di ricerca per quanto riguardava l'area della CFTR la prima era la ricerca di nuovi farmaci perché è vero che il mercato propone tutto questo ma c'è ancora grande spazio per trovare farmaci nuovi migliori o nuovi come meccanismo quindi per esempio avete sentito parlare di stabilizzatori ecco qui che a Denver è stato portato il risultato di questo che potrebbe essere uno stabilizzatore della proteina sulla membrana cioè uno che la costringe a stare lì anche quando lei siccome è difettosa balla e verrebbe rimossa e poi c'è un nuovo potenziatore questo oggetto di brevetto è anche molto pubblicizzato per dire conclusione che il futuro dei modulatori di CFTR è nelle associazioni di composti non aspettate non aspettatevi che ci sia la pastiglia unica credo che questo siete arrivati a capirlo fate il paragone con gli antipertensivi voi siete se c'è un'ipertensione importante in genere viene associato un diuretico con un beta bloccante e lo stesso sarà per il farmaco che va sul difetto di CFTR seconda linea ricerca di terapie per mutazioni diverse da F508 del non c'è solo F508 del avete sentito quello che ha detto il dottor Braggion le mutazioni stop in Italia complessivamente riguardano il 10% dei malati e quindi rappresentano una fetta importante delle mutazioni stop i progetti della fondazione si stanno occupando questa molecola NXV è uno di quelli che sono stati chiamati rettificatori ricordate la sostituzione della lettera eccetera eccetera è ancora in corso comunque la molecola è brevettata è arrivata al saggio su cellule bronchiali CF sempre per le mutazioni stop c'è in corso una cosa di cui vi parlo dopo che è il tentativo di trattarle con RNA editing e guardando fuori di casa è in corso il trial clinico europeo di fase 1-2 con il nuovo composto LX02 che è un rettificatore come NXV per intenderci questa l'avete vista molte volte ma ci ritorno per chi è chiudo su questa cosa vuol dire gene editing editing vuol dire correggere l'editor è quello che si prende la responsabilità di fare correggere le cose perché poi vadano in stampa il gene editing questo è l'avanzamento rispetto all'anno scorso l'anno scorso parlavamo solo di andare sul DNA del gene quest'anno si parla di andare sull'RNA messaggero qua siamo dentro al nucleo della cellula il DNA si srotola fa una copia di se stesso che è l'MRNA e l'MRNA è il messaggio che viene portato nel ribosoma dove c'è la fabbrica insomma per montare la proteina possiamo agire con le forbici sul DNA tagliando via il tratto sbagliato e poi sperando che in qualche modo si riaggiusti o introducendo noi un pezzo per raggiustarlo però possiamo agire anche sull'RNA e guardate che agire sull'RNA ha dei vantaggi perché non tocchiamo di fondo il genoma dovete pensare che pensate solo quando siete davanti al computer scrivete una cosa siete lì dovete mandare alla fabbrica l'ordine per produrre una cosa lo scrivete lo inviate e poi rileggete l'invio e avete fatto un invio sbagliato non c'è modo di correggere la cosa inviata invece i ricercatori hanno trovato il modo di correggere l'RNA messaggero che è molto più vantaggioso rispetto alla vostra mail originaria che magari chissà dove è andata a finire chissà se la trovate chissà se è quella giusta ed è esattamente la stessa cosa agire con il gene editing sul DNA o sull'RNA e appunto progetto RNA M editing per mutazioni stop 5 2018 applica perché da qualche parte bisogna pur partire questa tecnica alle mutazioni stop invece DNA editing per le mutazioni splicing il primo passo è questo si vuol vedere proprio se la tecnica funziona e poi si può passare alle mutazioni di altre classi ho detto da qualche parte bisogna appucantire ultima e poi chiudo volevo lasciarvi con questi con queste informazioni che mi hanno molto sorpreso e che mi hanno anche volevo trasmettervi la sensazione di chi apre i libri eccetera il computer e ogni giorno trova qualcosa di nuovo si sta studiando la possibilità di curare la fibrosi cistica in epoca prenatale e sono stati pubblicati i risultati promettenti delle sperimentazioni su modelli animali gene editing in utero questo è un esperimento fatto su topi con una grave malattia polmonare a livello intestiziale genetica e le tope sono incinte nel loro utero viene iniettato nel liquido amniotico tutto il complesso che deve portare la forbice le proteine per andare a fare il gene editing e il topino il feto topino deglutisce il complesso CRISPR Cas9 e la forbice eccetera e siccome non ha polmoni funzionanti fino a che nasce quello che deglutisce va a finire nei suoi polmoni meraviglia della meraviglie sembra che riesca a beccare il gene di questa malattia che viene corretto e si vede che alla nascita i topi hanno polmoni migliori diminuisce la mortalità per quella malattia insomma una serie di cose positive l'altra cosa l'altra cosa speranza l'altra cosa è la somministrazione di Iva Kaftor Calideco alle furette incinte non glielo diciamo anche questa è molto interessante perché hanno studiato il dosaggio che potevano dare alla furetta incinta in modo che fosse efficace l'hanno dato alla furetta incinta in un periodo di gravidanza corrispondente al primo trimestre della gravidanza della donna e quindi c'è stato in qualche modo un arrivare di questo Calideco al feto perché infatti sapete che durante la gravidanza bisogna sempre controllare i farmaci che prendi perché se no se ricucca pure il feto e ci sono buoni risultati nel senso che per esempio hanno visto che il furetto che ha scusate era un furetto feto G551D o mozigote quindi sono partiti da questo tipo di mutazioni se maschio non presentava l'atresia dei deferenti il danno pancreatico era solo in parte risolto e c'era qualche segno anche di miglioramento del tessuto polmonare quindi speriamo e con questo ho chiuso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti